Il conduttore di Io e te, il buon Pierluigi Diaco, si sarebbe infuriato oggi, 17 giugno 2020, con un autore in diretta televisiva. In particolare, uno degli autori del programma sarebbe passato davanti alla telecamera. Il conduttore lo avrebbe ripreso in diretta e gli avrebbe detto, passano gli autori davanti alla telecamera. Maurizio Gianotti, datte una calmata, già dall'inizio della puntata Pierluigi Diaco si sarebbe lamentato perché ci sarebbe stato un malfunzionamento di una cassa. In particolare avrebbe detto, oggi funziona soltanto una cassa invece che due, incredibile. Ed ecco che c'è stato, diciamo così, oggi, 17 giugno 2020, un momento di impasso durante la puntata di Io e te, nella rubrica dedicata a redive del passato. Redive del passato, ripeto, nuovamente. Diaco avrebbe lanciato lo spazio di ramei domestici, ma in quel momento ecco che si sarebbe infuriato con un autore in diretta TV. Grazie, il video termina qua. Un saluto con il Carlo D'Aleandro, un attore italiano, prossimo video.